Dottor Paolo Fazzi, ricoveri in discesa, numero di positivi in discesa, Abruzzo tornato in zona gialla, si inizia a vedere la luce ma non bisogna abbassare la guardia, lei lo ha detto anche nei giorni scorsi. Proprio così. Allora, la situazione epidemiologica fortunatamente volge al meglio. Abbiamo un minor numero di casi, abbiamo un minor numero di casi da ospedalizzare, i decessi che osserviamo adesso sono situazioni legate a 3-4 settimane fa perché purtroppo quando si aggrava questa patologia non ti fa morire nell'arco di 24-48 ore. Solitamente, purtroppo, è un'escalation progressiva e graduale, quindi sono situazioni, diciamo, di 3 o 4 settimane fa. Omicron non è ancora quel tanto auspicato virus endemico, cosiddetto, che è in grado di causare solamente un raffreddore comune. Le cose non stanno in questi termini. È ancora un virus che spaventa e può miedere anche ancora numerose vittime. La situazione perché è miglioramento? La situazione è miglioramento perché fa caldo, è aumentata la temperatura e quindi questo virus patisce l'aumento della temperatura. Ci aspetterà un'estate che la passeremo sicuramente meglio delle ultime due, soprattutto della prima, quando non c'erano vaccini e quando il virus era sicuramente più virulente e patogeno. Però Omicron sarà con noi, circolerà fra di noi. Noi dobbiamo cercare di farlo circolare poco, in modo tale da presentare una platea ridotta di soggetti infetti per il prossimo autunno-inverno. Perché per il prossimo autunno-inverno, salvo situazioni molto fortunate, fortunose, c'è una variante che riuscirà a sostituire radicalmente Omicron ad altissima capacità infettante e a patogena, ma probabilmente ancora presto, probabilmente avremo a che fare ancora con Omicron o con una generazione di virus molto prossima ad Omicron, anche se sicuramente meno patogena. Dottor Fazzi, per chiudere, quarta dose di vaccino, vogliamo un po' chiarire, si farà chi verrà vaccinato? Perché si deve fare? Perché l'incontro tra questo gruppo, questa famiglia di virus, i coronavirus, con la specie umana, produce anticorpi non molto duraturi. La mediana della presenza di anticorpi che ci proteggono è di 9-12 mesi. Questi 9-12 mesi, però, sono un periodo di tempo che si osserva nel soggetto giovane immunocompetente. Nel soggetto anziano, nel soggetto fragile, in quanto immunodepresso, ovviamente la possibilità di avere anticorpi neutralizzanti, che riescono quindi a proteggere l'infezione, il tempo si riduce notevolmente e quindi è giusto fare una quarta dose in questo gruppo di soggetti, anche in questo periodo. Per quanto riguarda tutti gli altri, probabilmente faranno una quarta dose prima dell'autunno, per prepararsi poi, diciamo, la circolazione del virus, come dicevo prima, nei mesi più freddi. E non lo so se dovrà essere necessaria una quinta dose, magari fatta come per il virus influenzale, magari ogni anno nel mese di ottobro-novembre. Questo però non si può prevedere, dipende da come andrà l'epidemiologia di Covid-19 nel mondo.